Allora, presentiamo il suo romanzo. Il titolo è La leggenda del cane rosso, lei si chiama Beatrice Piaschi e il libro è sicuramente dal titolo, è un libro che crea un po' meno di curiosità, immagina cosa ci sarà scritto dentro, che storia ci sarà. In prima battuta si può pensare ad un fantasy, in realtà la storia è molto articolata e forse questo è il pregio del libro di Beatrice perché oltre al fantasy ci sono le emozioni, c'è una storia intricata, c'è quasi, chiamiamolo un giallo, colpi di scena che tengono con il fiato sospeso. Ecco, la capacità dello scrittore, inerro, che lei è, lo vedete, giovanissima, è proprio quella di riuscire a non seguire soltanto una traccia, che in certi casi può anche annoiare, ma di variegare il suo testo, appunto, proprio come è riuscita a fare lei. Il tutto ruota intorno ad una ispettrice di polizia, una giovane anche lei, che si chiama Cristina. Lei si trova convolta in una vicenda, appunto, che era di mistero, come dicevamo prima, di colpi di scena e questi misteri si divanano passo passo, svelando misteri e situazioni sempre più implicate, sempre più difficili da spiegare anche. Ecco, i veri personaggi, però, del libro, proprio il ferruge del libro, sono gli animali e, in particolare, i cani, non soltanto quello che dà poi voce al titolo, ma sono i veri amici, sono gli alleati dell'uomo e, in questo caso, la donna, perché, appunto, liberatrice. Anche questo libro scuole sul tipo piano della immaginazione, narrazione e realtà. Ecco, che cosa ti spinge a scrivere storie così articolate e perché non hai ancora pensato a scrivere un romanzo? Forse perché la semplicità non è di casa, quindi diciamo che amo molto la commissione di generi, quindi non mi piace che un romanzo sia incasellabile solo in un determinato genere letterario e mi viene quasi spontaneo usare proprio registri differenti, mi piace molto spaziare, perché poi anche nella lettura faccio così, quindi nella scrittura mi piace replicare ciò che faccio nella lettura, quindi, dato che poi sia il thriller che il giallo che il fantastico, la fantascienza, i romanzi di formazione sono un po' i miei generi preferiti, poi, in un certo senso, li ripropongo, sì, esatto. E poi, infatti, anche, come ho detto giustamente, nel mio primo romanzo, che era un romanzo di formazione, c'erano degli elementi fantastici, e in questo caso c'è un impianto invece giallistico che viene arricchito appunto da un elemento più leggendario, portato appunto da queste figure un po' spongenti e misteriose dei cani rossi. Comunque a me interessa, sì, l'elemento della fantasia, ma anche poi raccontare storie che prendono le mosse da episodi reali. Sicuramente, tutto quello che sentiamo tutti i giorni, episodi di cronaca negativi, purtroppo, torture sull'essere umano, esperimenti sugli animali, rabbimenti, violenze, chiaramente tutto questo influenza un po' lo scrittore e era mia intenzione riproporre alcuni di questi fatti proprio per riflettere su queste violenze. Ma nello stesso tempo è importante per me provare a dare questa sera anche una seconda chiave di lettura del romanzo, cioè andare oltre quello che è l'episodio che accade e cercare di capire magari che questi episodi di violenza, soprattutto in particolar modo mi riferisco a rapimenti di bambini piuttosto che a torture e violenze sugli animali, rappresentano una cosa più alta a livello mirafolico, cioè il fatto che ci sono delle parti di noi che vengono violentate costantemente durante la vita di tutti i giorni e che sono appunto le parti bambine, le parti animali, cioè tutte quelle parti che sono rimanere deboli, anche più ingenue, se ci vogliamo comunque, quelle parti che vorrebbero rimanere sempre libere di affiorare, purtroppo in società questo non ci ha permesso, perché comunque culturalmente dobbiamo mantenere un atteggiamento che secondo noi deve essere sempre freddo e razionale davanti a tutte le cose, no? Nonna tu sei stata sempre l'unica a credere davvero in me e nel mestiere che ho scelto di fare sin da ragazzina, ora sono diventata rispettrice, sono passata di grado, non so se l'ho mai capito ma penso di sì, penso che fino all'ultimo tu mi abbia seguita, quando qualcuno ti chiedeva che il mestiere faccesse tua nipote, tu ti scevi con orgoglio la poliziotta, non ti è mai importato nulla che fosse pericoloso, tu mi ammiravi e basta, tu sei stata fantastica, nonna ti prego, salutami nonno, io di cui lo penso sempre e mi manca molto.